Non rida, non rida alcune stesse spesso a tanto il nostro, scusi il francese, non deve ridere, non deve ridere, se le boccia non me può bocciare ridendo, io la caccio, al più si dice non ammesso, no cacciato, è cacciatore, può fare una foresta, può fare l'insegnante, come doveva fare la lezione, no che adesso se ti permetti di bocciare quando uno scrive non fa niente, a me sta cosa me va bene, io me faccio un problema più grosso, capito? Io rispetto all'inizio, ma poi rispetto solo se sono rispettato, prima fa passare peggio idioti, adesso uno che scrive le cose non fa più bene, esce la gente, non ci sono più i testimoni, ma certo, allora io più sto foglio, lo strappo e rifaccio l'esame, perché? Perché decido io, io va bene sta cosa e lei le va bene? Non stanno a chiedere nient'altro, nient'altro di imparzialità, e lei non è stata in grado di darcela, come lei non è stata in grado di darci delle lezioni, che si aspetta che le faccia io, eh? Che abbassi la testa, eh? Che si aspetta? Ma spiega che si aspetta, no? Mi vuol dire, ma ce ne si aspetta? Da uno che ha passato l'intera sera su questa materia, su degli attuti, da schifo, spiegati a lei, che si aspetta? Ma che io devo fare? Ma che devo inventarmi? Io ho passato il compito, perché dovrebbe bastare che tutti l'anno è bastato? Se avete problemi interni con l'incenderia, risolvete lavarmi ai docenti, imparate con noi, se a me mi fate perdere la vita, la vita, a me lei non manda, io sono qua, che sto come lei, con la stessa età, la differenza è che lei è pagata, io invece pago, a me sta cosa non mi va bene, e lei fa l'uscita.